Sì, io sono Enrico Pasquale Praticò a Butamotta San Giovanni, ho 22 anni e sono un ragazzo carino e quelli ragazzi che mi piacciono a me mi piacciono biondi, capelli neri, macri, bellissimi, sex, che facete voi? Io sono a casa, lavoro, zappo, a vigna e... Bella la nuova vigna! Migliora ogni giorno, come il nostro San Crist... La nostra uva! Alla nostra dottoressa! E a San Crispino! Sono un carino ragazzo, trovate a me su WhatsApp Enrico Pasquale Praticò, il mio numero lo do a Giovanni Zacchuri, così mi trovate voi, e su Facebook Enrico Pasquale Praticò con tutti. Ciao, la mia vita sono qua che faccio... Io mi cattai per la seczione 3 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Io mi catto! Grazie a tutti! La mia vita è la mia vita è la mia vita! Ho il telefono Samsung Gales Grand Neo E voi che facete? Ciao! Ciao! Grazie a tutti